Perché questo è un gran progetto, non solo per me, sino per tutta la gente che sta qui, questo è un gran mosaico, tutta la gente come una mantonele per portare in terra, nel muro, in qualche sito, non è l'importanza che dove va a portare, sino che va a portare una mantonele a questo progetto. Veramente è un'opportunità unica, che non tutta la gente va a fare questo, e non tutta la gente ha l'opportunità di fare questo.